Esistiamo ora, vogliamo esistere, anche fra cent'anni, il grido della premier delle Barbados, Mia Moore Motley, alla COP26, è il grido di tutti i paesi poveri delusi dal G20 di Roma che sperano nel summit di Glasgow per piani di azione più concreti contro l'emergenza climatica. E se la leader isolana parla a nome di arcipelaghi che rischiano di essere sommersi dall'inalzamento delle acque provocato dal suo riscaldamento globale, il tema generale è quello del dramma dei paesi a basso reddito, di fatto dipendenti, dalle decisioni dei grandi della Terra, i quali sono condizionati da interessi di aziende e lobby multinazionali molto potenti che beneficiano dei sussidi ai combustibili fossili, rileva Gaston Bruni, premier di Antigua e Barbuda e presidente dell'Alleanza dei Piccoli Stati Insulari. I progressi non sono sicuramente sufficienti fino a ora, siamo molto lontani da un percorso verso 1,5 gradi, ha detto a sua volta il presidente del Bhutan e presidente del gruppo dei paesi meno sviluppati che rappresenta più di un miliardo di persone e riunisce i 48 stati più poveri della Terra. Il riscaldamento da gas a serra è un problema per tutti, ma i tempi per i poveri sono ancora più stringenti e la questione vera, al di là delle denunce, è la loro capacità negoziale. Nelle due settimane di COP26 sono pronti a far sentire la propria voce e a dare battaglia.